Ciao, buon pomeriggio, ragazzi e ragazzi, mio nome è Francesco e sono da compagnia Ate Tutondo in Italia. Siamo qui nel ICE 2018 e ciò che vorremmo introdurre in questo show è un prodotto molto forte, il nuovo prodotto, il nome è Modus. Cosa è? Questo è un'unità di controllo audio dove puoi avere più strumenti, tutte in una. Infatti, dentro c'è un Bluetooth, un F-tuner o un prodotto di audio digitale. 3, usb controlli, up to 300 musici, output subwoofer, LED display, sensore di proximità. e ha un prodotto di valutazione di 24 volti. E' qualcosa molto interessante perché puoi fare un sistema multirum per lavori, lavori, lavori e hotel. E' qualcosa di nuovo per questo show e qualcosa di nuovo per il prossimo. Grazie. Grazie mille. Per qualsiasi informazioni, please www.tutondop.com Grazie. Grazie.